Ieri sera la svolta all'emiciclo con il via libera del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio. C'è però anche il problema degli 8 milioni di euro di fondi circa, o almeno questa pare la cifra, da distribuire che sembra spaccare un po' la maggioranza, tensione che sarebbe venuta fuori nella capigruppo di ieri. La lunga giornata di oggi è iniziata alle 11 con la riunione delle commissioni consigliari per l'espressione dei relativi pareri in attesa del Consiglio regionale di domani che dovrà approvare il bilancio. Per la maggioranza si tratta di un buon documento per gli abruzzesi e non esiste nessun ritardo. Negli anni passati sono avvenute le stesse cose, dicono. Negli anni passati l'ultimo governo di centrosinistra l'ha approvato il 31 di dicembre, quindi assolutamente no. Questo è un bilancio vero, è un bilancio di crescita, è un bilancio che dà prospettiva alla nostra regione. È arrivato anche il parere dei Revisori dei Conti, un parere dei Revisori positivo, segno che in questo momento questo governo regionale tiene i conti a posto e sta cercando di fare al meglio quelli che sono gli interessi dei cittadini abruzzesi. Ma nonostante il parere dei Revisori, che è un passaggio tecnico nel quale comunque non mancano le osservazioni, le polemiche non si placano. Per l'opposizione il comportamento del centrodestra è grave e la Giunta azzerra di fatto il Consiglio, non dando il tempo di migliorare il lavoro. La battaglia quindi continua un'ala domani. Le famiglie abruzzesi oggi non hanno e non trovano voce all'interno di quello che è il bilancio. La Giunta, per di più, creando quelle che sono le difficoltà maggiori, quelle che sono le difficoltà che abbiamo riscontrato oggi e ritardando i tempi, non ha permesso all'opposizione di fare il loro lavoro e di attenzionare in maniera corretta la voce sia dei portatori di interessi, sia degli stakeholder, sia delle famiglie, sia delle imprese. Quindi non c'è stata la discussione che ci ha permesso di migliorare questa manovra. E' veramente surreale che per questioni politiche, prima su tutte quella che fa capo a Fratelli d'Italia la posizione di Liris, si è dovuto aspettare l'occupazione di spazi finanziari anziché pensare alle prospettive di governo della Regione Abruzzo. Noi faremo battaglia in Consiglio regionale, cercheremo di confermare nuovamente 5 milioni di euro per l'energia, prestare attenzione ai territori, però evidentemente anche parte della maggioranza, credo che sia stata offesa da questo comportamento ci sono problemi che andranno chiariti in aula alla presenza del Presidente Marsiglio.